Parliamo un po' di come scegliere la giusta inquadratura per riprendere la celebrazione eucaristica. Ora, certo, l'intento è quello di far ricomprendere nell'immagine il più possibile tutti gli elementi. Dall'altra parte bisogna anche sceglierla in maniera adeguatamente accurata per evitare che sia una ripresa troppo ampia e che quindi magari faccia perdere la visibilità delle singole persone che intervengono, il celebrante, il lettore, il ministro, oppure di fare delle riprese troppo strette, quasi ritagliate soltanto sull'altare, che fanno perdere tutto il resto del presbiterio. In qualche caso si è visto celebrazioni che per forza di cose sono state celebrate quasi tutte all'altare, lettori compresi, ma se scelta adeguatamente bene l'inquadratura può comprendere tutti gli elementi. Basta, a seconda della propria chiesa, trovare la location giusta. Facciamo due prove. posso magari privilegiare un'inquadratura fatta più di taglio, di lato, dove è possibile sia inquadrare bene chi sta al lambone a proclamare le letture, sia far vedere il celebrante quando è all'altare o quando è alla sede, oppure invece privilegiare un'inquadratura più centrale che bene o male ricomprenda il tutto. Dovete tenere presente però una cosa. La qualità dell'immagine che voi andrete a trasmettere verrà sicuramente compromessa dalla compressione, dal tipo di strumento che utilizzerete per riprendere. Quindi fate delle prove per cercare di capire fino a che punto potete anche tenere un'inquadratura ampia che permetta di far vedere tutti o quando invece sia più opportuno restringere il campo visivo. Ovviamente è importante anche scegliere correttamente il luogo dove celebrare. Certo qualcuno potrà dire beh perché non farlo nella cappella feriale, quella invernale è più piccola, è più raccolta. Certamente un ambiente più raccolto come quello della cappellina feriale può sembrare magari un ambiente ottimale, più raccolto, più facile trovare magari un'inquadratura che ricomprenda tutti. Stiamo però attenti ad alcuni aspetti. Innanzitutto potremmo trovarci in una situazione come questa, con una vetrata molto luminosa alle spalle. Questo fa sì che l'immagine di fatto sia molto scura e si capisca molto poco. L'altra cosa che dobbiamo tenere presente è che molto spesso nelle nostre cappelline feriali, proprio perché sono piccole, noi non disponiamo di un impianto di amplificazione e quindi il risultato è che l'audio che potremmo ottenere è solo unicamente quello che viene preso dal microfono del computer o dello smartphone e quindi con i soliti problemi di rimbombo. Dall'altra parte è anche vero che tanti parrocchiani sono proprio contenti di poter vedere la celebrazione della messa fatta dalla loro chiesa parrocchiale, quella nella quale tutte le domeniche si ritrovano per celebrare. Quindi forse magari scegliere il luogo più comune, più conosciuto anche dai nostri parrocchiani ci permette anche di ricreare un ambiente a loro sicuramente molto più caro e familiare. Grazie a tutti.